guardate che spettacolo stamane il mare il mare tutto confuscato quelle piccole onde continue biancastre e un certo movimento una cosa meravigliosa la sto riprendendo apposta per questo è un leggero venticello ma comunque insistente e appunto e poi vediamo questo corrusco di quest'onda biancastra è una veramente una meraviglia della natura queste lo sposto verso leggermente da quest'altra parte eccoci qua siamo direzionati verso l'isola d'elba non si vede perché all'orizzonte evidentemente questo mare impedisce poi la visibilità oltre cioè praticamente il vento sta fa sposta soltanto quando c'è la patana come si dice no a certo punto si vedano in distanza si vedano tutte le isole incluse quelle non italiane abbiamo l'isola d'elba direzione in questa direzione ma davanti abbiamo tutte le isole che spettacolo stop 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 Grazie a tutti.